signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana nuovo episodio per la serie delle sei culture del gioco di ruolo che doveva essere una mini serie fatta di soli quattro episodi e siamo arrivati al settimo perché un'attenta pianificazione è indispensabile per il buon master mi stanno arrivando un sacco di domande e di proposte per questa serie che a quanto pare ha scoperchiato un intero nuovo mondo a un sacco di gente quindi probabilmente la porteremo avanti anche nella prossima stagione e questa settimana la dedicheremo a fugare quello che sembra essere un dubbio estremamente comune però prima di andare avanti devo farvi una premessa questo video che state vedendo non lo vedete in tempo reale perché io in questo momento probabilmente sono impegnato fin sopra la testa con il kickstarter di armalia ne abbiamo già parlato in dei vecchi video non so quali informazioni saranno disponibili al momento in cui registro quindi trovate sotto nei commenti tutto quello che c'è da sapere ve lo dico solo perché se non risponderò in tempo reale ai commenti mettiamola così è normale poi mentre non sarò neanche a casa in questo periodo tra l'altro non escludo neanche che quello di cui parlerò oggi magari ne ho già parlato per iscritto da qualche parte sui social appunto perché questo video è molto vecchio quando lo vedrete mettiamola così ora tornando a noi un aspetto che interessa tutto il gioco e ruolo in generale è quello della risoluzione delle azioni ogni scuola di gioco ogni cultura di gioco ha sviluppato i suoi metodi per approcciarsi a queste cose che dipendono da qual è il focus su cui si sta andando a lavorare però andando con ordine in in questo video questa settimana vedremo prima di tutto cos'è la risoluzione delle azioni quali sono i metodi principali usati alle varie culture e soprattutto perché questo è importante e bisogna saperlo iniziamo subito la cosa più importante cosa si intende per risoluzione delle azioni anche in questo caso come nella maggior parte per quanto riguarda le sei culture del gdr è estremamente difficile trovare dei termini tecnici ufficiali e specifici perché varie culture e anche vari autori all'interno delle singole culture si riferiscono alle stesse cose con nomi diversi usano le stesse cose per indicare cose diverse quindi diciamo che per noi oggi in questo video quando parliamo risoluzione delle azioni intendiamo la procedura di gioco che viene implementata per stabilire chi ha l'autorità narrativa per decidere se l'esito proposto da uno dei partecipanti del gioco si realizzerà o meno volendo semplificare brutalmente diciamo che la risoluzione delle azioni è che cosa io devo fare per fare in modo che il mio personaggio faccia quello che ho detto che vuole fare questa situazione presente in tutti i giochi di ruolo e ogni gioco di ruolo avrà una sua procedura una sua meccanica per stabilire come risolverla ora premetto una roba io in tutti gli esempi che farò in questo video parlerò sempre di tirare i dadi in realtà di modi per risolvere le meccaniche del gioco ce ne sono virtualmente infiniti quindi non fatevi ingannare in un gioco specifico la meccanica potrebbe essere tirare più dadi sommare dadi tra i loro e se si va a vedere gli story game le cose diventano ancora più complesse potrebbe pescare delle carte eseguire delle somme spendere delle risorse esistono persino vari giochi in cui per stabilire la risoluzione un'azione bisogna letteralmente leggere i tarocchi quindi quando io dirò tirare il dado sappiate che intendo una qualsiasi meccanica risoluzione per questo video quale sia lo specifico non è rilevante quello che invece è rilevante per noi e come nei vari giochi questa situazione venga approcciata i metodi di risoluzione sono i più vari ma possiamo racchiuderli in due macro categorie quelli basati sul task resolution cioè la risoluzione del compito più specificatamente la risoluzione dell'azione e quelli basati sul conflict resolution cioè sulla risoluzione del conflitto interno alla scena dei due iniziamo dal task resolution perché quello più antico ed è quello che è stato implementato direttamente dai giochi di strategia da cui tutti i giochi ruolo derivano vediamo di fare un esempio concreto diciamo che siamo arrivati a un punto della nostra quest in cui il gruppo agli avventurieri deve oltrepassare un fiume sul fiume c'è un ponte che renderebbe facile guadarlo ma il ponte è occupato da un troll che impedisce a tutti di passare immagino starate già elaborando i metodi più disparati potrebbero attaccare il troll potrebbero ingannarlo potrebbero noi qua vogliamo essere banali un giocatore potrebbe dichiarare che si nasconde nei cespugli vicino al ponte aspettando che il troll si distragga per poi attraversare il fiume a nuoto e nascondersi di nuovo all'altra parte e dato che stiamo parlando di task resolution questa dichiarazione da parte del giocatore verrà scomposta nelle sue singole azioni e ogni azione verrà testata indipendentemente il master chiederà un tiro di nascondersi tra i cespugli un altro tiro per nuotare nel fiume e un terzo tiro ancora per nascondersi nuovamente dall'altra parte ognuna di queste singole prove potrebbe anche avere dei modificatori il primo tiro potrebbe avere un bonus perché abbiamo detto che il troll è distratto e il secondo potrebbe avere un malus perché la corrente è molto forte quindi è difficile nuotare in quel fiume in ogni caso tutte e tre le prove dovranno essere superate affinché la dichiarazione del giocatore nuoto fino all'altra parte senza farmi vedere dal troll abbia successo ma fallire un tiro anziché un altro potrebbe avere delle conseguenze diverse ad esempio fallire la prima prova per nascondersi tra i cespugli potrebbe voler dire che il troll ha visto il giocatore ma fallire la seconda prova quella in montagna nel fiume potrebbe voler dire essere trascinati via dalla corrente questa è probabilmente la meccanica che la maggior parte di voi se non tutti voi già conoscono ed è il modo in cui sono abituati a ragionare quando si pava il gioco di ruolo ovviamente però non è l'unica possibile non necessariamente è quella migliore in ogni situazione l'altra macro categoria è infatti quella del conflict resolution cioè non andare a vedere e testare le specifiche azioni compiute da un personaggio ma vedere qual è il conflitto della scena e andare a risolvere direttamente quello riprendiamo lo stesso esempio che abbiamo fatto e vediamo stabilire qual è il conflitto centrale ovvero che cosa uno o più giocatori vogliano fare e che cosa o chi gli impedisce di farlo nel nostro caso questa analisi è effettivamente semplice il conflitto centrale riguarda il fiume il party vuole attraversarlo il troll vuole impedirgli di farlo in un sistema che utilizza una meccanica di conflict resolution i giocatori non dovranno dichiarare le singole azioni che faranno e poi testarle ma dichiarare qual è il loro obiettivo e in che modo vogliono ottenerlo e poi superare un tiro per vedere se riescono a ottenerlo o meno ogni gioco avrà poi delle meccaniche specifiche per risolvere questo tipo di situazioni nel nostro esempio diciamo che uno dei giocatori dovrà fare un tiro di astuzia contro il troll qualsiasi cosa questo significhi e se quella prova avrà successo il giocatore potrà dichiarare come andata a finire cioè cosa ha fatto per superare il fiume nel caso invece la prova non abbia avuto successo sarà il master a dover descrivere al resto del tavolo come mai i giocatori hanno fallito nel loro intento le differenze tra questi due metodi sono evidenti e a seconda di quale sia il focus su cui vuole concentrarsi il gioco uno potrebbe diventare preferibile all'altro il conflict resolution ovviamente è molto più veloce da applicare ma visto una singola scena risolta in un tiro ma ha anche il vantaggio di lasciare più spazio alla libera interpretazione all'immaginazione dei singoli giocatori dovendo poi descrivere cose in maniera più vaga ha però ovviamente lo svantaggio che da una parte rende il gioco estremamente meno tattico i giocatori alla fine una volta che sanno di aver superato la prova quello che descrivono lo fanno solamente per estetica ma potrebbero anche semplicemente andare avanti e proprio perché la componente estetica diventa preponderante potrebbe mettere in difficoltà giocatori che magari sono molto bravi a ragionare sulle situazioni ma non sono così propensi a parlare o a parlare bene durante il gioco al contrario il task resolution permette una gestione molto più accurata e granulare di tutto quello che succede in scena ed è utile soprattutto in casi come quello del nostro esempio in cui fallire un'azione invece che un'altra all'interno della scena potrebbe avere conseguenze molto diverse il suo svantaggio è che ovviamente è più lungo perché ogni singola azione deve essere risolta separatamente e probabilmente anche descritta separatamente e dato che è molto più tattico al contrario del precedente i giocatori che sono molto bravi a immergersi e enfatizzare vengono penalizzati rispetto a quelli che invece ha un approccio molto più analitico alle situazioni questa è una dicotomia intrinseca in vari mondi del gioco di ruolo che quella su cui si basano anche le differenze su molte culture il gioco tattico è molto più analitico e intellettualmente stimolante ma nella stragrande maggior parte dei casi fare la scelta più logica vorrà anche dire fare la scelta più noiosa difficilmente la mossa più sicura e anche quella più rocambolesca e più divertente da descriversi come ho detto poi all'interno di ognuna di queste due macro categorie c'è un'altra lista di sotto meccaniche specifiche che dipendono dal contesto dal gioco stava ad elencare tutte renderebbe questo video lunghissimo e sarebbe anche inutile anche perché alcune si trovano semplicemente in uno specifico gioco altre si trovano in vari giochi ma chiamate diversamente però facciamo un paio di esempi una variante abbastanza comune del task resolution è il problem resolution che è comune a molti giochi sia trad che neotrad invece di andare a vedere ogni singola azione che il personaggio dovrebbe fare le azioni vengono accorpate per categoria tutte le azioni simili vengono sommate assieme e presentate poi al giocatore come un singolo task da dover testare dopo aver combattuto contro i pirati e gli asteroidi l'astronave dei giocatori è danneggiata e il meccanico di bordo dovrà superare un test di ingegneria per ripararla all'interno della fiction questa evidentemente non è una singola azione il meccanico dovrà mettersi a riparare molti sottosistemi in parti diverse della nave e il lavoro richiederà giorni se non settimane per essere portato a termine ma al giocatore la cosa viene presentata come una singola prova di fai un tiro per vedere se riesce a riparare la nave molto spesso questo è anche il modo in cui nei giochi trad e neotrad vengono gestiti i dialoghi il master non chiede al giocatore di eseguire una prova per ogni singola frase che dice o per ogni singolo argomento che porta il giocatore avrà il suo momento di interpretazione in cui parlerà per voce del suo personaggio poi il master gli chiederà semplicemente di eseguire una singola prova magari modificata in base a quello che ha detto non ha detto per vedere se chi ascolta è stato convinto o meno dalle parole del personaggio una variante molto comune del conflict resolution è quella che viene chiamata anche lo scene resolution o il situation resolution in pratica non viene testato il conflitto presente all'interno di una scena ma viene eseguita una prova per l'intera scena per stabilire un andamento il party ha organizzato una festa e ha invitato tutti i nobili del regno per cercare di impressionarli e fare bella figura e di conseguenza guadagnare contatti politici una situazione come questa non ha un chiaro conflitto interno non c'è qualcuno o qualcosa che stia attivamente cercando di rovinare la festa però è evidente che è una situazione drammaticamente importante avere o meno successo in questa situazione potrebbe influenzare pesantamente l'andamento della quest proprio il corso della storia quindi è evidente che serve qualche tipo di prova da parte dei giocatori per vedere se hanno successo o meno in quello che hanno dichiarato di voler fare ovviamente ognuna di queste sotto categorie potrebbe avere a sua volta altre sotto categorie probabilmente se cercate su internet trovate enormi liste di caso per caso qual è lo specifico nome alla meccanica avendo dovuto preparare il materiale per questo video io ho passato diciamo più tempo di quello avrei dovuto a scartabalare queste cose ma posso dirvi non sono così rilevanti i concetti che dovete ricordare sono questi il nome specifico della specifica implementazione potete anche lasciarlo perdere fate attenzione a non fare confusione tra il metodo di risoluzione delle azioni e le conseguenze della risoluzione delle azioni questo lo dico soprattutto per chi viene dagli story game per quanto siano molto spesso trovate assieme il conflict resolution e il fail forward sono due principi molto diversi e non sono necessariamente accorpabili io potrei avere un sistema dove viene risolto l'intero conflitto della scena ma poi l'eventuale successo fallimento più che altro l'eventuale fallimento è bloccante o avere un sistema di task resolution in cui ogni singola azione ha la possibilità di fallire ma il fallimento delle singole azioni in realtà prevede soltanto l'aggiunta accumulativa di ostacoli alla situazione in corso e quest'ultima parte per chi ha giocato sempre solo trad probabilmente non ha avuto alcun senso ma oramai siamo arrivati al fondo al video quindi non c'è tempo per spiegarlo ulteriormente e essendo io stesso un master trad ritengo che la cosa migliore da fare è lasciarvi con un cliffhanger fino alla prossima stagione chissà poi perché tutti odiano il trad comunque adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto se conoscevate il task resolution il conflict resolution se avete un metodo preferito tra i due o se avete un gioco preferito che però preferireste usaste l'altro metodo nel mio caso ce ne sono un paio o se invece l'avete scoperto oggi se ho calcolato bene i tempi di uscita di questo video la settimana prossima dovrebbe esserci il primo episodio di questa stagione del mega riassunto del mega dungeon il progetto collaborativo del canale per creare la nostra ambientazione quindi per quelli lo stanno aspettando si arriverà la prossima settimana prima della chiusura della stagione per il resto come sempre se avete domande dubbi o perplessità lasciate un commento qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete che aiuta cresce il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione al video trovate il link al server di disco dal gruppo di telegram dove metto io le notifiche dei video manualmente e dove si riunisce anche la community del mastercai che è quella che poi fa proposte per video come queste per il resto io sono il mastercai e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao